A Pasqua la geta fuori porta è tradizione, ma quando a farla da padrone il tempo incerto, allora sono le città a popolarsi di passanti e turisti. È stato così anche a Pozzuoli, dove il lungomare ha offerto lo scorcio perfetto per trascorrere tranquillamente un pomeriggio di festa. Ma se da una parte il mare ha alietato la vista dei tanti visitatori, dall'altra, esattamente di fronte, si è diffuso un malcontento generale nei confronti della ZTL e dei provvedimenti a essa legati, che è culminato nella sera di Pasquetta in una vera e propria guerriglia urbana. Calci e pugni contro il furgone che applicava le ganasce alle auto, spinte, insulti ai vigili e perfino un corteo improvvisato di automobilisti, parcheggiatori abusivi, ristoratori e cittadini, intenzionati a far desistere i rappresentanti dell'amministrazione dall'applicare un piano traffico così fatto. Un weekend festivo, una cinquantina di verbali e quattro ganasce hanno acceso agli animi di Putiolani e Non, che a fatica tuttavia si sono districati in mezzo al tappeto di macchine parcheggiate in doppia e in tripla fila, non curanti di rotonde, marciapiedi e segnaletica, e delle pattuglie stesse della Polizia Municipale che sorvegliavano la zona. Un fronte composito, quello del No ZATL, in cui a fare la voce grossa sono anche i titolari degli esercizi commerciali e i comitati civici. Il problema parcheggio tuttavia a Pozzuoli c'è e causa non pochi danni. Ci ha pensato il parroco del Lungomare, allora Don Mario Russo, a fare da mediatore tra i compaesani, per così dire abolizionisti, e le forze dell'ordine. Nei prossimi giorni, infatti, un meeting con i cittadini coinvolti stabilirà una linea comune di dialogo prima dell'incontro con il sindaco. Intanto alcuni ristoratori hanno già preso provvedimenti, perché in effetti un parcheggio a Pozzuoli c'è e il multipiano dei Gerolomini, distante dai primi locali del Lungomare ma raggiungibile con un servizio navetta privato organizzato. Certo non basterà un pulmino ad appianare la questione parcheggio, ma almeno è chiaro che a ben vedere le soluzioni sono più vicine di quanto sembrino.